E' stato scelto Fano perché intanto a Fano abbiamo un posto meraviglioso per poterlo fare qui all'aeroporto. Ci sono spazi enormi e siccome aspettiamo il nostro leader Matteo Salvini ci immaginiamo anche un'affluenza notevole di persone che vengono sia dalle Marche ma sicuramente anche dall'Umbria e dalla Romagna. Quindi avevamo bisogno di un posto grande dove c'era la possibilità di farlo. In più con gli amici dell'aeroporto ci sentiamo quasi a casa. Quali sono le tematiche che in questi tre giorni affronterete? Nei tre giorni faremo una prima parte di tavole rotonde. Le tematiche delle tavole rotonde sono molto interessanti perché saranno quello che noi chiamiamo un aperitivo per dei convegni che andremo a sviluppare quest'inverno e sono tematiche che serviranno moltissimo per la scrittura dei nostri programmi. Cominceremo con il tema della caccia e il territorio. Arriverà il senatore Bruzzone che è il nostro massimo esperto di caccia che sta preparando una nuova proposta di legge. Abbiamo un altro incontro sulla donna. Anche questo è un altro tema estremamente importante perché la donna è colonna portante, come l'abbiamo chiamato, della nostra società. Altro tema fondamentale, i giovani. I ragazzi non hanno opportunità e quindi non avendo opportunità si demoralizzano. Quello, il lancio che vogliamo fare è nei confronti degli imprenditori abbiate più fiducia nei nostri giovani che sono estremamente preparati e che sono costretti a emigrare all'estero o in altre regioni d'Italia. Questo è un peccato perché abbiamo un'ottima formazione e vorremmo avere anche delle ottime imprese per poter assorbire questi ragazzi. Una domanda la volevo fare su Matteo Selvini, il Ministro dell'Interno sarà qui. Quindi immancabili anche le ricadute sulla politica nazionale. Immagino che saranno un argomento importante. Sarà qui, indubbiamente verrà seguito più dei media forse nazionali perché ogni giorno ne scopriamo una di diversa. È, penso, il personaggio più amato della politica italiana in questo momento e indubbiamente la persona a cui molti italiani fanno riferimento e per la quale si sono anche avvicinati tantissimo alla Lega. Noi nel territorio della provincia di Pesano Urbino abbiamo tantissimi iscritti, abbiamo più che triplicato il numero degli iscritti e stiamo ancora iscrivendo nel 2018, nonostante siamo a settembre, ma perché c'è una grande volontà di cambiamento e una grande volontà di far parte di questa famiglia. Ovvio che l'avrivo di Matteo Selvini a Fano segnerà, posso dirlo, l'inizio della campagna elettorale che coinvolgerà i comuni della nostra provincia.